Sono più di 20 pazienti ricoverati nel reparto di geriatria all'ospedale Santo Spirito di Pescara che cedendo il numero dei 52 posti letto disponibili hanno trovato sistemazione lungo i corridoi aggravando una situazione più che mai disperata. L'assessore alla terza età del comune di Pescara, Nicoletta Dinisio, raccogliendo le proteste degli utenti chiede una risoluzione immediata e definitiva del problema mentre Massimiliano Pignoli, capogruppo dell'Udc in comune, annuncia proteste eclatanti. Ricolgo l'occasione per ricordare all'assessore Berì, Nicoletta, dove è stata sempre disponibile nel parlare di questo problema aveva già aperto un tavolo di trattativa sia con la ASL che con i sindacati quindi ripristino l'invito a riaprire questo tavolo con urgenza di magari la regione potrebbe riguardare quelle che sono oggi le RSA che pagando un ticket oggi le troviamo vuote perché la gente non può più permettersi di pagare a giornata un certo costo. Abbiamo detto al direttore sanitario ieri che ci ha ricevuto e lo ringraziamo disposto a fare azioni eclatanti come diceva lei perché è una situazione di non vivibilità ho detto al direttore sanitario come provocazione ma se lì ci fosse tua madre o tuo padre ricoverato avresti lo stesso, tratteresti le stesse persone in quel modo? E ovviamente il silenzio l'ha fatta da padrona. Volevo dire che in concerto con l'assessore Edinisio e con il sindaco Carlo Masci anche lui come dire tra qualche giorno si recherà presso la geriatria per vedere questa situazione che non è più sostenibile da nessun punto di vista. Abbiamo trovato ovviamente persone in corridoio addirittura con bobole d'ossigeno per terra non a norma tenete presente che anche l'assistente che all'interno assiste il paziente ha difficoltà anche nel movimento e quant'altro se ci sono ovviamente 25 suberi quindi ci sono 80 persone ricoverate significa che ci sono 160 persone e quindi anche la nostra solidarietà ai medici e agli infermieri e agli osse che lavorano ovviamente in una giungla la definiamo noi.